ma valutelli dal vivo com'è? è veramente così? per poco che l'avete visto insomma è una statua, è simpatico, è simpatico, è simpatico solo che è molto timido no perché si parla di un suo possibile ritorno in italia, insomma c'ha avuto una carriera abbastanza beh si parla di Napoli, Roma, il ritorno in nazionale poi anche con la nazione di Mancini a Napoli mi piacerebbe, si ti piacerebbe? è forte Balotelli perché Frank Madano è tifoso del Napoli, giusto? simpatizzante o tifoso? no, sono tifoso ma non riesco a seguire tutte le partite quindi non ne capisco come un vero tifoso però ti seguo quando posso e quindi Balotelli ti piacerebbe vedere il Napoli? tanto, si, Balotelli è forte, ma scusa quando erano gli europei del 2012? contro la Germania, il gol contro la Germania Balotelli ci ha fatto arrivare in finale, poi è passato un po' di tempo, a te non ti piace? a me piace tanto Balotelli al Cagliari pure ti piacerebbe? al Cagliari? è complicato però quanto guadagna soprattutto come si regna, non è abbordabilissimo pensiamo a salvare prima di arrivare al Cagliari, a proposito di Napoli, insomma c'è stata questa conferma Sarri dovrebbe rimanere a Napoli, sei contento? super contento, Sarri è un genio secondo me ed è una mente libera che dice io faccio così e non mi rompete le scatole e questo qui lo ammiro moltissimo ma in tutti i lavori quando uno è così appassionato e vuole avere il suo metodo e non vuole in posizioni da nessuno secondo me escono le cose più belle tra l'altro mi piacerebbe vedere un duetto tra te e Sarri magari però non ho avvento l'Oscar perché è un grosso Spielberg chiediamo il primo possibile per l'Oscar magari così può duettare invece te Matteo, insomma se tu sei sardo quindi insomma non potevi che ti fare Cagliari giusto? assolutamente sei pazzo del Cagliari sì infatti mi è dispiaciuto tanto quest'anno abbiamo girato il film quindi siamo stati molto impegnati infatti il Cagliari rischia la retrocessione te lo vedi se anche te voglio caricare tutte le cose su di te però insomma parte però la cosa bella di Matteo è il suo sogno lui fa il regista ed è bravissimo è un genio il suo sogno non è vincere l'Oscar vuole fare l'allenatore del Cagliari ah sì? sì ah sì figurati no no ma ciò sempre dico un giorno o l'altro comunque è regista c'entra un po' come no? è regista? è un allenatore sul set a tutti gli effetti in che caso non ci riuscirà? eh non lo so però mai dire mai sono ancora giovane ma come si fa l'allenatore? si deve fare un corso? si si fa un corso un corso a quanto tempo c'è? non c'è delle scorciatoie possibili fa un corso al coverciano insomma di prendere il tesserino sì ci vuole tempo c'è più facile vincere l'Oscar? no è un bel due però sicuramente guadagno di più facendo l'allenatore beh quello mi sembra abbastanza probabile allora io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti grazie mille grazie a te vi diamo appuntamento ovviamente al prossimo appuntamento prossimo film insieme? sì 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 ci stiamo già pensando e noi siamo qui però appuntamento al cinema adesso anche al cinema infatti no chiudevo dicendo però intanto andate al cinema a vedere Tonno Spiaggiato si crepa tra le risate insomma con loro due non potrebbe essere altrimenti grazie mille e a presto un saluto a tutti i nostri amici ciao grazie un saluto grazie a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici